Nella giornata del 24 giugno, Copp Lombardia ha comunicato ai rappresentanti sindacali in esubero di 12 unità. Da subito sono iniziate ad arrivare le prime lettere di trasferimento che coinvolgono 4 dipendenti, di cui 3 donne e una delle quali è una part-time. Sono stati trasferiti presso il punto vendita di Brescia-Flaminia, distante quindi 50 km. Un dipendente deve farne 110-120 per raggiungere il posto di lavoro e tornare indietro. Non sono state prese in considerazione le implicazioni che tutto ciò comporta e il tutto è stato fatto senza coinvolgere le organizzazioni sindacali. Le organizzazioni sindacali, venute a conoscenza dell'accaduto, hanno indetto immediatamente uno stato di agitazione, hanno effettuato un'assemblea di tutti i lavoratori nella quale si è deciso di effettuare il blocco degli straordinari e uno sciopero nella giornata del 6 luglio. Faccio presente che 12 unità corrispondono esattamente a 12 full-time, ma potrebbero essere un numero superiore di dipendenti se consideriamo anche part-time. Corrisponde circa al 10% di tutto il personale coinvolto.